La pagina spesina di avvenire in Edicola Domani apre con la festa dedicata alla famiglia. Si terrà a Sarzana domenica prossima nella cornice medievale della fortezza firma Fede. Una giornata tutta dedicata alla famiglia. La festa si tiene a due soli giorni dalla pubblicazione dell'esortazione apostolica a Moris Letizia. Alle 18 ci sarà la messa conclusiva del Vescovo Palletti nella Basilica di Santa Maria. Crescono in diocesi i battezzati da adulti. L'aumento ormai considerevole anche alla spezia di persone immigrate da paesi lontani fa crescere ogni anno anche il numero di coloro che a contatto con le grandi tradizioni della fede cristiana chiedono da adulti il battesimo e gli altri sacramenti detti dell'iniziazione cristiana. A centropagina Don Giovanni della Mora ha quasi 103 anni. A Padova gli ha fatto visita al Patriarca di Venezia. Don Giovanni della Mora, il sacerdote di Don Orione, nato a Feltre il 16 agosto 1913, ha quasi raggiunto la veneranda età di 103 anni. A fondo pagina Tra ebro e magra, quella magia del canto gregoriano. Un antico canto catalano ha dato il via ieri sera a Sarzana al festival musicale in canto armonico. Festa dell'Annunciazione Alla faccia è il rinnovo dei voti Domani la Chiesa celebra la solennità dell'Annunciazione del Signore. Queste le principali notizie che potrete leggere domani sulla pagina spezzina del Quotidiano Cattolico Avvenire.